Aiaeo, aiaeo, sono innamorato di te, innamorato di te e ma ti lascerò Questa sera siamo a Just Love, Risolage Bar, entriamo Come va signor Bomba, come va signor Bomba, come va signor Bomba, come va signor Bomba, come va signor Bomba Cosa fa domani Napoli? Roma-Napoli credo un pareggio Se indovini anche i marcatori puoi vincere una cena La mela primo marcatore per la Roma Credo fortemente segnare la pante, Amsic e di nuovo la mela Cosa hai fatto del Napoli? Ho preparato il cocktail Cavani Ecco il cocktail Cavani e per un augurio resta con noi Siamo venuti a curiosare nelle cucine di Just Love Qual è la vostra specialità oltre al drink di Cavani che ho assaggiato? La nostra specialità è il chili con carne che è un piatto messicano Vittoria di Napoli 2-0 Sì ma il barista ha fatto un cocktail in onore di Cavani e in cui ha detto speriamo che Cavani resta con noi quest'anno Speriamo che Cavani resta con noi Ricordate quest'anno come è andato il campionato del Napoli? È stato un gran campionato Abbiamo perso poche partite dove dovevamo vincere però è stato un buon campionato Per le prospettive del Napoli è stato un buon campionato Quindi speri che l'anno prossimo vinca lo Scudetto? Spero di più in Champions Quindi non pensi che il Napoli l'anno prossimo possa puntare lo Scudetto? Dipende, sulle partite secche è più forte il Napoli Sulle partite a lungo andare desiste un po' Quindi sempre e comunque? Forza Napoli